Siamo i migliori, siamo Malefix No dai, ma i filmini no dai Se li facciamo a parte con... Uè ragazzi, potete parlare Facciamo tutta una scena, tutta una scena Quando non vinto questa scena Facciamo questa scena, facciamo un po' di molesto Ma se vuoi, ma se vuoi, ma se vuoi Non ti stai graziano? No, no, no Dove ti stai graziano? Eh, dica... Dica, 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 perché tu hai inizi artisti? Perché stavo facendo un cazzettone Cioè non è che se ne mette così Mi sto volendo Io non sapendo che oggi non vieni una giornata in rete Vero, vero Perché dici così? Perché nelle giornate in rete Si può fare la tesi che si può? Ma certo che si può, si può tutto Perchè non che si può creare la tesi che si può fare la tesi che se si può fare la tesi che si può fare Grazie a tutti.